tramite il rilevante flusso di passeggeri, l'economia locale e le attività turistiche in particolare in quel periodo ancora internazionalmente rilevanti come l'oramai celeberimo Cuscus Festival di San Vito Lo Capo. Rimanendo a parlare proprio dell'esercitazione NATO spostata dalla Sardegna a Trapani, ci saranno 25.000 partecipanti e sarà la più grande esercitazione per l'appunto dalla caduta dal muro di Berlino. Saranno testate le capacità della forza di risposta. Il portavoce al Senato del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Sant'Angelo, ha presentato un'interrogazione al Ministro della Difesa sulla prossima esercitazione militare internazionale denominata Trident Juncture 2015, che si svolgerà a Trapani. L'esercitazione era stata inizialmente pianificata per il prossimo autunno sull'aeroporto di Decimo Mannu, in Sardegna. La Trident Juncture 2015 è un'esercitazione che, oltre che in Italia, si svolge in concomitanza in Spagna e Portogallo, con unità terrestri, aeree e navali e con forze speciali di tutti i paesi Nato. L'esercitazione, il cui spostamento è stato deciso dai vertici dell'aeronautica militare, vedrà 25.000 partecipanti e, come annunciato dalla United States Army Europe, sarà la più grande esercitazione Nato dalla caduta del muro di Berlino, che dovrà testare le capacità della forza di risposta, il cui ruolo è rispondere a una crisi prima ancora che essa cominci. In altre parole, quello della guerra preventiva. Il grillino teme che l'esercitazione, che vedrà coinvolta la base militare del 37esimo stormo dell'aeronautica militare di Trapani-Birgi, dove le piste di decollo e atterraggio sono aperte anche al traffico civile aereo del limitrofo Scalo Vincenzo Florio, possa creare disagi e pericoli per la collettività trapanese. Infatti, lo stesso aeroporto nel recente passato, per l'intervento in Libia nel 2011, ha subito la chiusura con ingenti danni economici causati dalla non-operatività dello Scalo. E visto che Trident Juncture 2015 non garantisce in primis alla società civile le condizioni di sicurezza del limitrofo territorio, vista la portata e la complessità delle operazioni militari che vedranno coinvolte oltre 80 veivoli e circa 5.000 militari di varie nazionalità, il pentastellato chiede di sapere se si può rassicurare alla società civile del territorio trapanese che le operazioni militari in questione non determineranno condizioni di insicurezza per la popolazione che non comporteranno la limitazione dell'operatività dello Scalo Aereo Civile del Vincenzo Florio di Trapani-Birgi. Non vorrei che ancora una volta, a distanza di pochi anni, si stia preparando un altro scenario di guerra in Libia come quello del 2011, ha commentato Sant'Angelo. Non vorrei, continua, che l'economia trapanese venga messa in ginocchio da un'esercitazione militare della durata di oltre un mese. Infine, non capisco, conclude Sant'Angelo, come si possa investire risorse per addestrarsi alla guerra e non sul rilancio occupazionale e sulle aziende. Per chiudere, una notizia di sport, parliamo di calcio. Davide Raffaello, 27 anni, centrocampista nato a Latina ma residente a Sabaudia e un giocatore del Trapani, proveniente dalla Lupa Roma che milita nel campionato di Lega Pro. Nella stagione appena concluso, il neo acquisto Granata ha totalizzato 27 presenze e realizzato 7 gol. Raffaello è stato protagonista con la Lupa Roma anche della precedente stagione in Serie D con 30 presenze e 8 gol. Arriva a Trapani a titolo definitivo con un contratto annuale con opzione di rinnovo. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di Alpa1 si chiede qui. Come sempre, grazie per l'ascolto e risentirci per i prossimi appuntamenti. A risentirci.